Un accordo importante tra Atlante e Sonae Sierra, società a cui fa capo il centro commerciale Gli Orsi di Biella e che prevede la realizzazione di una prima stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici presso il centro commerciale di Biella, aperta ai clienti e al pubblico. L'iniziativa si inserisce nel percorso di sostenibilità intrapreso da Sonae Sierra nel corso degli anni, che ha già portato la società a ridurre le proprie emissioni CO2 più dell'80%. Atlante sta sviluppando la più ampia rete di ricarica rapida e ultra rapida del sud Europa integrata al 100% con la rete elettrica, alimentata da energie e da fonti rinnovabili e supportata da sistemi di accumulo. La sostenibilità è sempre stata al centro delle strategie di business di Sonae Sierra e sempre di più ci poniamo l'obiettivo di sviluppare progetti e soluzioni che generino valore condiviso per l'azienda, l'ambiente e la società. È quanto afferma José Maria Roble, General Manager di Sonae Sierra. Per questi motivi, aggiunge, siamo entusiasti del progetto Agli Orsi di Biella, un primo importante passo che potrà aiutare noi e i nostri partner a costruire un ambiente urbano ancora più sostenibile a livello ambientale. Sono orgoglioso, ribatte Stefano Terranova, amministratore delegato di Atlante, che Sonae Sierra abbia scelto Atlante per proseguire nel proprio percorso di elettrificazione a sostegno della mobilità elettrica. Con le stazioni di ricarica rapida a zero emissioni vogliamo contribuire a questo progetto e sono convinto che sia solo il primo passo di un percorso condiviso.